ah che non è neanche ben lanciato il dado lanciamo il dado 13 11 quindi full venezia facciamo così vado a prendere una parvuda vai 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 proviamo entra gianni se ci sta si perchè non ho il mano aperto bene allora tapp target permanent quindi anche una non 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 fa niente o lo tappa target permanent non 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 ma non di non 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 Ehm, vai! Effettivamente sennò era una presa per il culo, cioè, che vita era se dovevi aspettare che l'altro lo tappava per usarla? Vabbè, lui va... A5 è questo. Quello si stappava al prossimo. C'è il Dado di Fritz. Ok, adesso faccio due bianchi e due neri e faccio il Spectral Processing. Quindi uno, due, tre. Tre volanti. Uno, uno. Uno, vai! Vai! Spacco, vado a prendere un bianco. Tre. Tanto sono uguale. Una è frizzata. e l'altra stappa dopodiché attacco i travolanti troppi e ne distruggo una vai al 18 e vai non è Pauper il tuo però è di blocco è quella nuova è tutta un'edizione dell'ultima edizione ti balzo una creatura tappata quindi è morta pesca una carta repulse no è meno più debole vai ma è uguale è uguale a repulse repulse è una rimbalza e pesca si ma non creatura tappata ah no è vero con la la più forte ti tengo tappata la quella e chi non è una nuova niente picchio 17 vai 2468 gioco questo quando entra nel campo di battaglia esilio a un permanente non terra ti controlla l'avversario quindi quello quando se ne vai i segnali rimangono? no i segnali vanno via vanno via vai è bella questa cosa non lenta non lenta non lenta è al 5 costa un in più dell'anello vanno via tutto tappato approfittiamo facciamo 3 faccio spettro approcciazione 1 2 3 1 4 5 5 6 1 6 2 3 7 Ti tengo frezzata la quella Picchi di uno 16 vai 10 volte Mi senti Si 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 esco 2 1,2,3,4,5,6,7,8,9 scarto questa gioco una terra che non ho giocato vai ma che mano è strana 5 tengo sempre frezzata quella pesto di 4 12 dopodichè vai peggio che questa la spacco con l'isola dopo di che vai spacco un altro bianco fuori di fecciare pescherò qualcosa di diverso non ho più pianura mi sembra non ho più pianura incredibile prima terra diversa da che posso prendere una montagna solo una montagna solo una montagna una montagna guarda ti frizzo questa quindi hai un malablu solo spesso di 4 stai riprendendo vai a 9 questa è a 6 vai 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 e sulla gianni adesso giro un paletto nel culo e ti frizzo questa hai due ma la blu che sta qua proviamo quindi uno solo due 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 soren se ci sta mi ricordo cosa fa questo uno uno e un e ecco i due ma la blu cancer si ha addirittura ho fatto uscire questa testo non ho tenuto al gola 7 vai non è il disegno ciclo scarto pesico ciclo scarto pesco ciclo scarto pesco carico said po' se è infine adesino m acquistro pesco 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 Come ogni spingere è forte. Usiamo la fatality di Ajani, spacco tutta la terra. Dopodiché, diciamo, uno, due, tre. E con questo rimuovo, mi prendo questo, giusto? Torna Ajani. Ajani lo mando a quattro, faccio come target lei, counter, perché è la prima. Per tanto, faccio, ciao, uno più tre, l'esilio. Ecco, 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 ecco. a parte del fatto che devo togliere delle carne